Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Tybrek, rubrica di Telebari dedicata al tennis e al padel. Oggi focus sul padel, accanto a me c'è Lucas Bracchi, maestro nazionale ed ex giocatore e professionista di padel. Ciao Lucas, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come sappiamo il padel è uno sport che ha preso piede ormai in tutta Italia, in particolare in Puglia. Sono migliaia i padelisti che continuano a cimentarsi sui campi pugliesi. Ti chiedo, cosa ti ha portato in Puglia e come valuti questa esperienza? Senti, sì, dal 2021 che lavoro qui è stata una bella esperienza, un percorso che avevamo iniziato a fare dal 2018 con qualche clinica e qualche settimana tra il 2019. Dopo di pandemia è esplosso il padel in tutta l'Italia, ma soprattutto in Puglia. Questo ha portato al Presidente Pasquale a convincermi, diciamo, avere il valore anche di investire sulla mia immagine, di portarmi qui al Cupra e sta crescendo ogni mese tutto il movimento, quindi vedo una crescita costante che è molto alentatora per il movimento del padel qui in Italia. Ovviamente, per chi non lo sapesse, Lucas Bracchi è stato numero 80 della classifica World Padel Tour. Lucas, hai girato il mondo, ovviamente tu sei argentino, hai iniziato di lì che è un po' la patria del padel, poi hai cominciato a girare il mondo. Qual è magari il ricordo più bello che hai della tua carriera da giocatore e quanto ti ha aiutato questa carriera a poi diventare il maestro che sei ora? Beh sì, come bene dici, ho cominciato da piccolo in Argentina e penso che ho dei ricordi, oltre il best ranking a livello professionista, dei migliori ricordi che ho sono quando ho fatto parte del selezionato nazionale in tanti mondiali under 16, under 18 per la nazionale argentina. Secondo me quella è un'esperienza che già da piccolo ho preso tanto valore per questo sport e poi mi ha portato a fare forse il giocatore e il maestro che... Ovviamente noi approfondiamo la tua carriera da maestro perché qui praticamente coordini l'attività, fai tante lezioni sia agli adulti ma anche ai bambini, io mi soffermerei proprio su questo. Quanto è importante anche partire dai bambini, ricordiamo che la Federazione Italiana Tennis e Padel sta facendo una scelta ben precisa, ovvero quella di inserire il padel all'interno della formazione dei ragazzi che quindi partono già con una racchetta da padel in mano anche dai 4 ai 5 anni, ti chiedo quanto è importante partire in giovane età e conoscere il padel? È importantissimo, per fortuna abbiamo una federazione italiana che sta facendo un lavoro ottimo su questa fascia di età e per me è importantissimo qui, come ben hai detto tu, oltre alle lezioni private sono il direttore della scuola, abbiamo tanti corsi, tanti gruppi sia di agonismo, di ragazzi adolescenti di agonismo, il pre-agonismo e soprattutto stiamo crescendo abbastanza con il baby padel. Questo format mi metto proprio io a farlo, è vero che a me c'è una passione anche per i bimbi piccoli, gruppi da 5 anni che stanno crescendo, abbiamo una ventina di bambini, è bello di vederli ma soprattutto è importantissimo il fatto di crescere con la raggetta in mano. Allora Lucas facciamo così, mini spot, intervista realizzata da Renato Nunziante a Fabio De Michele, giovane promessa del tennis pugliese e poi torniamo insieme. Siamo qui con Fabio De Michele che ha da poco collezionato il primo punto ATP abbandonando il circuito di Uniones. Ciao Fabio. Salve a tutti e innanzitutto grazie per avermi proposto questa intervista. Fabio per iniziare tu sei di Taranto, cresciuto a Taranto, qual è il tuo rapporto con la nostra splendida regione? Il mio legame con la Puglia è molto profondo sia perché mi sono formato come persona oltre che come tennista, perché ho iniziato a giocare qui a tennis ovviamente e i miei primi maestri che mi hanno accompagnato in questo percorso i primi ragazzi con cui iniziato a giocare. Infatti non è stato facile allontanarmi e arrivare a Foligno in Umbria dove mi alleno da due anni e mezzo ormai. Infatti non è facile essere lontano da casa, mi fa sempre piacere tornare, quindi è una terra che mi porto con me e a cui sono molto legato. E rivedendo qualche tua intervista ti ho sentito parlare del tuo amore per il gioco di Federer. È realmente lui il tennista a cui ti spili maggiormente? Allora io sin da piccolo ho sempre tifato molto Federer, addirittura da piccolo piangevo quando lui perdeva, ma attualmente il giocatore che mi piace più è Alcaraz, sia come stile di gioco che come personalità in campo. E provo a imitarlo ovviamente in piccolo in alcune cose, il stile di gioco potrebbe essere simile. E mi piace, l'ho visto dal vivo, la sua attitudine, la sua professionalità, anche il modo di stare in campo, far divertire la gente, mi piace e provo ad imitarlo. Il tuo risultato più importante è sicuramente quello dello US Open Unions della scorsa stagione, in cui hai raggiunto l'ottavi di finale prima di essere eliminato da Joao Fonseca, brasiliano che ora sta prendendo sempre più piede nel tennis che conta. Come valuti questa esperienza? Ci puoi raccontare un po' come è andata lì negli Stati Uniti? L'esperienza dello US Open, ma in generale della trasferta americana, la porterò sempre con me, perché fino ad ora nella mia carriera è l'esperienza che mi ha dato più soddisfazioni, perché appunto a New York, partendo dalle qualificazioni, mi sono spinto fino al terzo turno del tabellone principale, battendo il primo turno di Ulrich, che è uno dei ragazzi più forti al mondo under 18. E' stato molto bello confrontarsi con loro, avevo già avuto in passato l'esperienza a Wimbledon, ma in tutti gli altri tornei juniores, quindi già conoscevo il livello, è stato comunque un bel test, quindi confrontarsi con loro. E ho perso poi al terzo turno con Fonseca, che adesso è il numero uno del mondo e che ha vinto poi il US Open. Quindi è stata una bella dimostrazione comunque del mio livello, confrontato con quello degli altri ragazzi in tutto il mondo. E sono molto soddisfatto di questo. E devo ringraziare la federazione che mi ha permesso di fare questa esperienza e tutto il mio team di Foligny. Essendo iniziato da poco la nuova stagione, volevo sapere quali siano i tuoi obiettivi, i tuoi tuoi presupposti per questo nuovo anno, non potendo più giocare chiaramente i tornei juniores e quindi non potendo disputare ora l'Australian Open lì a Melbourne. L'obiettivo per questa stagione è sicuramente quello di giocare il maggior numero di partite possibili. So che sarà un anno difficile, perché è il primo anno totale del professionismo, che ho già iniziato con dei tornei l'anno scorso, ho due punti ATP. Ho notato che è già un tennis molto diverso e più reale rispetto a quello che vediamo in tv. Ci sono meno occasioni concesse, quindi bisogna stare più attenti rispetto agli junior dove comunque si concedono più occasioni. Inizio la stagione la prossima settimana, settimana del 29 gennaio, e farò due tornei di fila a Monster. Allora ti auguriamo un fortissimo in bocca al lupo e ringraziamo Fabio De Michele per questa intervista. Grazie a tutti per avermi proposto questa intervista. Per noi invece l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, sempre di martedì, con la nuova puntata della rubrica Tybrek. Buona continuazione. E rieccoci insieme, siamo con Lucas Bracchi, ex giocatore e professionista di padel, maestro nazionale. Lucas, ovviamente tu hai avuto una carriera brillante, però continui a giocare, possiamo dirlo, perché Lucas partecipa a tornei open, ma anche diciamo più importanti, giri un po' l'Italia. Ovviamente per quanto riesci anche con gli impegni qui al Cuprappa del Bari, ti chiedo anche quanto è importante mantenere questo ritmo e anche cimentarti ancora sui campi. Sì, continuo a giocare, diciamo che avevo smesso, però è un po' una combinazione tra fare il maestro e il giocatore, perché la motivazione di tornare a fare il giocatore è stata per accompagnare anche un allievo, quindi faccio sia il giocatore come il maestro dentro del campo e questo è molto importante, il fatto di continuare la carriera, continuare a giocare, girare l'Italia, vedere gli altri, vedere il movimento, proprio è arricchente anche come maestro, per non rimanere sempre fermo nello stesso posto, quindi questo è importantissimo, mi aiuta tanto a seguire, diciamo, da dentro il campo l'evoluzione dello sport, ogni anno evoluziona in un modo diverso. Luca, per chiudere ti chiedo qual è lo stato di salute del padel in Puglia e soprattutto quali sono magari i tuoi obiettivi per il 2021-24 che è appena iniziato, sia da giocatore che da allenatore? Lo stato, la salute del padel, per fortuna pugliese, è molto buona, lasciami dire che l'anno scorso, 2023, si è fatto la prima Coppa delle Regioni Under, al giro di tutta l'Italia, dove siamo riusciti a finire in terzo posto, questo è un traguardo importante, è anche una motivazione per tutti i ragazzi di avvicinarsi, quindi questo sta per fortuna molto bene. Gli obiettivi a livello, come giocatore, e sempre va un po', anche come maestro, come ti dicevo prima, continuare a mantenermi in prima fascia, riuscire a mettere in prima fascia, aiutare a ingressare in prima fascia il mio compagno e continuare con l'academy, con i tanti ragazzi che stanno iniziando a fare anche il percorso di tornei open, stanno nel passaggio dei tornei under ai tornei con gli adulti, quindi è la possibilità di inserire tutti i ragazzi che abbiamo nella scuola in questo tipo di giro. Bene, prima di chiudere, un'ultima informazione, questa volta sul tennis, perché Vittoria Paganetti, tennista barese che ha partecipato all'Australian Open Juniors, ha concluso il suo percorso al secondo turno, dopo aver battuto la Hamilton nel primo turno, è stata purtroppo eliminata al terzo set dalla XU, una tennista britannica. Bene, è tutto per questa puntata della rubrica Tiberk, ti ringrazio ancora Luca Spracchi per essere stato con noi. Io ti ringrazio a te, grazie a tutti. E buon proseguimento di giornata. E buon proseguimento di giornata.